Il confortante Parigi esterno col Sambuceto ha frenato l'emorragia dei risultati del Casal Bordino che ravviva la flebile fiammella della speranza e prova a coltivare il sogno di una rimonta difficile ma non impossibile per raggiungere l'agoniata salvezza che la società sta cercando di facilitare con i nuovi innesti operati nella poderosa campagna acquisti di riparazione. La gara dello scorso turno ha consegnato a mister Di Simone un organico ridimensionato a causa delle squalifiche ma i giallorossi non possono permettersi altri passi falsi e l'impegno interno con l'alba adriatica non si può fallire. I rossoverdi di mister De Amici, se reduci dal medesimo risultato ad occhiali nella sfida interna col Giulianova hanno bisogno a loro volta del bottino pieno per rintuzzare gli assalti alla griglia playoff, obiettivo ampiamente raggiungibile. La gara si apre con due episodi da rivedere la moviole che vedono protagonista il direttore di gara Federico Battini della sezione Umbra di Foligno che dopo pochi secondi dal suo fischio d'avvio lascia proseguire l'azione ignorando le vehementi proteste della squadra casalese che invoca il penalty in seguito ad un tocco con un braccio da parte di Delli Compagni che intercetta uno stacco in area di Salghiero. Nuove proteste di stampo giallorosso al terzo quando Mangia Casale infila nel sacco con un tocco vellutato che scavalca Barduagni ma l'assistente di linea ravvisa un fuorigioco del numero 7 di casa e vanifica l'interessante iniziativa propiziata da Regner. L'avvio vehemente della truppa locale si evidenzia anche nelle fasi successive anche se Barduagni riesce ad arginare la corrente Ciafardini favorito inizialmente da un fortuito rimpallo della difesa albense. La squadra ospite apparsa involuta e timorosa rispetto alla superlativa prestazione del turno precedente si affaccia timidamente dalle parti del seminoperoso Lalic che in tutta tranquillità abbranca la sfera sul piazzato dalla destra di Piccone. Si tratta come vedremo di un episodio isolato e illusorio visto che per l'arco della prima frazione sarà il casalbordino a tenere il pallino del gioco e ad insidiare la porta avversaria in più occasioni. Sul successivo capovolgimento di fronte Barduagni è decisivo per chiudere ogni varco al funambolico Mangiacasale ma deve soccombere al ventunesimo quando Regner risolve in mischia al culmine di un batti e ribatti in area albense. Al ventiseiesimo nuovo episodio da rivedere con più calma stavolta i padroni di casa protestano in seguito all'incontro ravvicinato tra Delli Compagni e Mangiacasale ma anche stavolta il fischietto Umbro non ravvise irregolarità da parte del difensore Terramano. La frazione si chiude con una ghiotta opportunità sciupata da Salguero con il provvidenziale intervento di Barduagni che mantiene ancora aperte le sorti della gara con un tempo intero a disposizione dell'undici rosso-verde. Ma anche al riavvio delle ostilità il copione sembra immutato con il Casalbordino che appare una lontana parente della squadra abulica vista all'opera in tante occasioni. Carattere è mordente al punto giusto danno nuova linfa in vigore ai ragazzi del patron Santoro fermati da un nuovo fuorigioco che al decimo vanifica la segnatura di Trisi. Il secondo atto sarà in realtà meno avvincente del primo ma il Casalbordino ha la concreta possibilità di mettere il risultato in ghiacciaia con lo scatenato Salguero protagonista di almeno tre nitide opportunità non concretizzate per un soffio a cavallo della mezz'ora di gioco. Mister De Amicis si gioca la carta torre con il bomber tenuto precauzionalmente in panca che non riesce ad incidere più di tanto e l'unico pericolo corso dal pacchetto arretrato casalese è quello infruttuoso che si registra al 33esimo quando l'Alice giustifica la sua domenica tra i pali con un intervento estremamente reattivo su una staffilata a ospite dalla distanza. Il Casalbordino torna al successo dopo tempo in memore e colleziona la seconda gara consecutiva con la porta inviolata buoni segnali di risveglio ma c'è ancora tanto da soffrire.